Musica E' stato trovato morto nella sua casa di Milano Andrea Merloni, industriale 53enne, stata la domestica a fare la macabra scoperta del cadavere nella tarda mattinata di ieri. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso dell'ex presidente di Indesi Company, figlio del Patriarca, Vittorio ed ex presidente di Confindustria. Con lui alla guida dell'azienda di famiglia, la Indesit, colosso dagli elettrodomestici, le sorelle Antonella e Maria Paola e il gemello Aristide. L'ipotesi più probabile al momento è che l'imprenditore sia stato colto da un malore, forse un arresto cardiaco, ma non vi è stata ancora alcuna conferma. La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri ed è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri ed è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.